Ciao, sono Antonella Cavallo, dottorandine Economia presso l'Università di Modena in Riggi Emilia. Mi occuperò del corso di R. Il corso è parte del progetto MOX organizzato e coordinato dalla professoressa Margherita Lusso. L'obiettivo di questo corso è insegnarvi in modo graduale come lavorare in R e dunque conoscerne le sue potenzialità. Il corso è organizzato in quattro moduli, ciascuno composto da tre lezioni. Partiremo dal download per passare a semplici funzioni di calcolo per arrivare a vettori matrice database. In particolare guarderemo come lavorare con i database, con le diverse funzioni e a far dei grafici. Tutti i materiali sono disponibili nell'apposita cartella del corso, troverete quindi slide, script ed esercizi. Buona lezione a tutti!